cosa cerchi quando vedi il provino di un'ottica ma dico è proprio il copione che dice tutto no con la storia comincia a fare ricerche per esempio le fotografie che ti fanno ti danno un istinto ti danno qualche sentimento della storia magari sarebbe o una fotografia anche una pittura una cosa fa per esempio ti fa sempre un'immagine che ci puoi arrivare per contare una storia una varia storia e il copione ti dice questa storia dopo di trovare è una serie di sperimenti provini che faccio non solo con gli obiettivi anche con le luci per trovare un linguaggio per ogni film sarebbe un vocabolario perché io credo che ogni film al suo vocabolario e non è già detto dall'inizio come deve essere girato il film e quindi con questa serie di provini che faccio dall'inizio una settimana forse proprio queste cose per esempio gli obiettivi lente magari atmosfera magari costumi magari colori varie cose per trovare proprio il linguaggio del proprio esattamente la storia il copione che dice mi puoi fare un esempio pratico di scelta di ottica in base al linguaggio e alla storia no sì per esempio per esempio di un esempio che abbiamo scelto io volevo copiare il metodo di polaroid ti ricordi i vecchi polaroid che avevano un certo colore un certo proprio look look sì e varie cose in quali pezzi di un film ho provato a trovare anche l'ottica che facevano anche le un po di scambiamenti o riflessi o anche un po sfogate o anche nocchiare quindi per provare a trovare questo tipo di look che proprio sembrava come il polaroid di quel tempo cercavi l'errore sì proprio l'errore oggi le ottiche le fanno sempre più precise e perfette ed è strano perché da una parte si cerca la perfezione sì e dall'altra parte si cerca l'errore l'imperfetto l'unicità la tazza dell'imperatore per trovare qualcosa diversa a un linguaggio diverso una un'emozione un un sentimento diverso anche con l'obiettivo e facciamo questo si fanno questi esperimenti proprio per ottenere questo un po di caldezza o anche il calore calore la pasta delle immagini a proposito cioè che relazione c'è tra queste scelte che fai e il tuo stile cioè se ogni film se ogni storia vive con un suo linguaggio e una sua storia dov'è che si trova lo stile del cinematographer veramente il stile è una cosa che viene ricercata dopo non è una cosa che ci penso ogni giorno per esempio non è una cosa che io dico questo fa parte del mio stile è una cosa che va bene uno quanto si mette a vedere la fotografia di mauro fiore può distinguere qualche cosa può arrivare qualche stile ma non credo che io inizio con questo non vado con questa iniziativa io provo a dire la storia come come si deve trovo forse un pezzettino forse puoi trovare qualche qualche cosa si avvicina ogni film che è stato girato da me ma non sono cose che ci penso completamente conscious di come si dice coscientemente coscientemente se sono più cose che vabbè ci può arrivare se fai questo studio assolutamente ma non è una cosa che ci penso a trovare un stile più trovare un stile per il film per vari progetti che è un stile di dice la fotografia di mauro fiore diciamo così perché non distinguere fra un progetto e un altro credo che è un sbaglio in base a cosa allora scelgono te per un progetto cioè cos'è che dice no per questo progetto qua mauro fiore perché solo lui lo può fare bene nel modo che c'è qual è il motivo per cui scelgono te beh questo dove devo andare comunque di compressione conversazione che abbiamo avuto dal copione oppure una cosa che l'ha interessato prima un film che ho girato prima che è molto interessante riguardo di luce di solito sono solo questi i motivi che che mi prendono lavorare vari registi che hanno visto un film che ho fatto girato in passato quindi non lo vedono penso un film tu di fantascienza devono girare un film di fantascienza anche loro e pensano mauro fiore ha già fatto ottimi film di fantascienza lo chiamiamo se questo è un po il sì sì un po così ma anche in riguardo di magari o anche amici a questo punto a vari direttori che registi che hanno lavorato prima con me altri tempi che abbiamo lavorato insieme forse in passato e hanno dei progetti che in futuro vanno avanti com'è la tua relazione con il regista cioè quando prendi in carico un progetto la tua relazione con il regista come si sviluppa ma il rapporto con il regista si può dire che è una cosa che giorni a giornaliere come si dice giornali da giorno a giorno è una cosa che si sviluppa con il progetto per esempio forse all'inizio non abbiamo proprio trovato il vocabolario di questo copione ma eventualmente con sopra luoghi riusciamo a trovare un linguaggio riusciamo a comunicare la storia insieme io provo anche interpretare in riguardo di luce in riguardo di ottica per aiutare a contare questa storia con james cameron ad esempio come cioè che cosa hai proposto per la james cameron un'altra storia perché lui era già come infatti aveva già cominciato a girare a tecnicamente assolutamente con james cameron non è una cosa che io posso imponere qualche tecnologia perché lui c'è già arrivata per esempio sapeva già di girare tre dimensioni a 3d la camera l'aveva fatto lui quindi sono sviluppi ed è già dall'inizio se ho accettato il progetto accettato varie cose riguardo di la camera che utilizzavano quindi tecnicamente io direi con james cameron ha più riguardo di luci in riguardo di illuminare certi certe atmosfere riguardo che lui magari ha visto qualche progetto che ho fatto prima e l'ha piaciuto il tipo di luce che faccio l'ha piaciuto il contrasto è piaciuto come illumino per esempio la tori e questo mi ha preso a me per quel film ma è un'altra storia riguardo di questo sviluppo perché è già una cosa che aveva già sviluppato lui e riguardo di tecnologia quindi tu sei subentrato dopo come esperto di fotografia per gestire i volumi contrasti invece le inquadrature è una cosa dove tu hai potuto dare un apporto o erano già tutte scelte no no sì sì inquadrature sì io riguardo di aver traversato io ho fatto tutte le sezioni del film che vedi che sono proprio reale vuol dire con attori con scene sul veri e set non non motion capture non lo so come le chiamate non le varie storie motion capture ma ho fatto quando vedi attori l'ho fatta io nel film che la luce che per esempio si arrivava una cosa dovevo continuare a fare una luce che consisteva a combinazione correlata correlata con gli effetti speciali che dovevano dovevano mettere dopo quando è che hai sviluppato anche la competenza di relazionarti con un esperto di effetti speciali ma questo fa parte del nostro lavoro a questo punto se se un direttore di fotografia non sa effetti speciali è molto difficile lavorare in questo cinema di oggi si può dire quindi questo rapporto con il visual effects quello che fa il visual effects il regista è molto importante e credo che è una cosa che completamente fa parte del nostro lavoro a questo punto quando è che hai iniziato a sviluppare queste competenze i tuoi primi passi verso il visual effect ma direi che non lo so ogni firma quel pezzettino di visual effects ma avvertare proprio al massimo l'esperienza come avvertano assolutamente non l'avevo prima di farlo riguardo di tecnologia riguardo ed effetti speciali ma dopo di avatar ti dico che riguarda degli effetti speciali non c'è problema con nessuno effetti speciali o no non c'è il problema di arrivare alla tecnologia non ho questo problema ma adesso stanno girando il 234 cosa è successo alla tua carriera dopo dopo l'oscar cioè che cosa hai visto cambiare se è cambiato qualcosa nel tuo modo di fare come si è inserito questo premio così importante nella tua carriera il riguardo di il riguardo di rispetto credo io riguardo di lavoro che ho diventato una persona sul set che è arrivato a un certo certo livello di esperienza mi trattavano diverso un po ti piace magari ma mi piaceva non mi piaceva perché inizialmente era uno che prendeva rischi ma dopo quando si è accettato come il direttore fotografia che ha vinto l'oscar c'è una certa un livello che aspettano aspettano sempre di più le persone di quello che puoi dare capito invece prima era una cosa che mi piaceva fare così ma l'aspettano quando sei hai vinto l'oscar aspettano un altro livello di lavoro quindi sei un po come si dice ti trovi un po no proprio a disagio di fare esperimenti come facevi prima sei obbligato a stupire sì ecco bravo così è ma tu come ti relazioni alla sperimentazione cioè com'è che cerchi oggi di fare qualcosa di nuovo ma io è importante trovare il mio modo di esprimermi in riguardo di storia o anche la fotografia perché non lo so fa parte della mia esperienza anche come artista dire così e fa parte sono interessato proprio queste cose per trovare un modo un nuovo modo di dire qualche cosa utilizzare il linguaggio che già so qualche cosa e provare a trovare un bilancio di provocare qualche emozione a fotografia che faccio oggi c'è un evolversi della tecnologia formidabile per 150 anni abbiamo usato il 35 mm oggi stanno spuntando fuori formati sempre più diversi e sempre più accessibili al grande pubblico tu come ti relazioni con con i formati cioè ti li scegli anche quelli per il linguaggio dal 35 la super 35 large format e sì per me fa parte di si può dire un altro modo di esprimermi per esempio un vario progetto credo che per esempio lì film magnifici 7 che ho girato quello assolutamente sulla pellicola era era una cosa che era importante farlo perché è un linguaggio già dei western che sono stati girati americani questo linguaggio della pellicola fa parte del proprio sentimento del western quindi era strano girare magnifici 7 sul sul digitale quindi mi sono trovato così abbiamo fatto questa scelta anche regista aveva molti era molto entusiastico per girare sul 35 millimetri a quel punto ma vari progetti io credo che è un modo di non lo credo che mi per esempio ci sono certi direttori di fotografia che solo vogliono utilizzare la pellicola ma io non sono così mi piace trovare i nuovi linguaggio lo vedo come il linguaggio digitale che è una nuova una nuova estetica che la dobbiamo sviluppare invece di non accettare la vedo così quindi ogni ogni videocamera che esce fuori a me mi piace utilizzarla almeno per fare un provino per vedere cosa c'è cos'è questa nuova tecnologia mi piace sperimentare un po per vedere se c'è qualche altra cosa di vedere anche il linguaggio del digitale è cambiato per sviluppare un'estetica anche con l'immagine digitale è però in base alla camera che scegli poi cambiano a domino tante tanti flussi anche poi per la per la post produzione io mi immagino che scegliere oggi una camera nuova poi imponga a tutta la produzione di tecnici delle nuove conoscenze e quindi mi immagino che sia più difficile proporre delle telecamere con un sensore più sconosciuto però non lo so questo è quello che mi immagino per esempio di solito è una 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 cosa di budget dipenda il budget al firma veramente per esempio se girato una lexa 65 assolutamente è una cosa che costa di più riguardo di questo più di della scelta le altre più riguardo di budget che differenze grosse ci sono tra dato che hai lavorato ai massimi livelli in america e ogni tanto ti capita di lavorare anche in italia che differenze grosse ai puoi puoi vedere tra l'america e qui non ho abbastanza esperienza riguardo di lavorare qui in italia ma l'esperienza che ho avuto mi sono trovato benissimo ti devo la verità di solito di nuovo è il riguardo di budget quanto è il budget del film è tutto questo in riguardo di le persone che mi aiutano per esempio gaffer capo elettrico capo macchiniste tutte queste persone in italia le trovo benissimo tecnici assistenti camera operatori macchina assolutamente c'è un livello completamente concepevole qui sono molto bravi quindi non ho problema di questi e di solito è in riguardo di equipaggiamento per esempio se è un film da 2 milioni è un film da 100 milioni quindi da portare più roba di riguardo di materiale in italia c'è molto il il vedere l'america come proprio il livello più più alto possibile e vedersi addosso da tanti problemi tante come se se fossimo meno bravi non so è un po il luogo comune che c'è poi in realtà ma io non lo credo che ho visto riguardo di girare con un crew italiano diciamo che si adattano di più alle varie per esempio non avere tanto ma riescono a trovare il sistema al modo di abituarsi di adattarsi sia da meglio del crew degli statuniti questo lo dico sicuro infatti ho l'esperienza di lavorare in morocco per esempio no e non ho portato nessuno degli stati uniti ho preso tutto il crew dell'europa il capo capo elettrico da milano capo macchinista anche da milano e il assistente della spagna un operatore macchina degli stati uniti quindi varie persone da tutta l'europa ci si può dire che sono sono state lì a fare quel film e si sono adattarsi non lo so con il crew italiano ho trovato che si sanno adattare meglio ma in base a cosa scegli i tecnici per lavorare con te e per curriculum per passaparola in base a cosa scegli ma io di solito ho fatto qualche spot digitale in italia e ho conosciuto varie persone e sono proprio queste persone che mi aiutano e quando vengo per esempio un progetto in italia prendo le stesse stesse persone a livello invece di film indipendenti come cioè quello che sta succedendo oggi è che la tecnologia è arrivata talmente in basso alla portata di tutti che è sempre più facile produrre corti o lunghi indipendenti tu hai è un mercato che segui per cercare stimoli oppure oppure no non è veramente un mercato che cerco riguardo se è una storia che mi interessa che sono molto entusiastico è più così che faccio la mia ricerca non è una cosa che dico va bene voglio trovare questo mondo di film indipendente per me è più una scelta di un progetto che mi interessa immagino che tu abbia a che fare con tanti giovani che magari ti chiedono consigli su come fare cioè tu in generale cos'è che consigli ai giovani di adesso che vogliono fare il tuo mestiere che dritte dai in generale ma io direi per me vi ha aiutato tanto a scuola per studiare film la scuola del film è stata ottima per me non dico vabbè sul lavoro è assolutamente un altro studio un altro modo di ti impari varie cose però andare a scuola studiare cinema per esempio devi fare il tuo film sai tutti i lavori che devi fare per esempio il suono che devi mettere la musica che devi mettere come fai fotograficamente come fai regia con l'attore quindi riesci a trovare la combinazione di mettere un film insieme e vedi tutti i ruoli cosa è proprio a mettere un progetto insieme è molto utile per in riguardo per me in riguardo che vedo quando sviluppo il film la scuola mi ha aiutato in tanti modi dopo la scuola cosa cosa è successo proprio nella tua storia e per me la storia mia è io ho studiato con jano scominski abbiamo studiato insieme a chicago e lui ha continuato è andato all'american film institute a los angeles ha continuato i suoi studi lì e dopo ha trovato un direttore di fotografia lì alla scuola che era un marito di una che è una studente una collega suo e lui faceva dei film di roger corman era uno dei film che le mandavano direttamente al video e ha cominciato a trovare questa persona ha conosciuto questo direttore di fotografia e quindi ha cominciato a lavorare con lui e mi ha chiamato a me che ero a chicago durante quel tempo e mi ha detto se voglio lavorare a questi film per cominciare qualche carriera lui doveva fare il capo elettrico e io capo macchinista quindi ci siamo stati ci siamo adattati e abbiamo cominciato nel nostro si può dire il modo di incominciare a lavorare in cinema ho lavorato su set come il capo macchinista ma dove eventualmente anche con sono diventato capo elettrico ma è questo è anche gli anni uscena un emigrante della polonia credo che proprio questo questo sentimento questa motivazione che noi abbiamo come migranti che è stato proprio questo che mi ha spinto avanti a andare avanti con con nostra carriera quindi l'ambizione che aveva janus è una cosa proprio pazzesca in riguardo di trovare progetti conoscere gente chiamare per progetti lavorare a qualsiasi film per fare esperienze e questo è stato il mio giro eventualmente è arrivato a girare il film di spielberg scendere su dest e mi ha preso a me come capo elettrico quindi dopo capo elettrico su scendere su est magari anch'io ho cominciato dopo di quello avere qualche qualche intervista per direttore fotografia e ho cominciato il mio giro poco da volta un poco da volta sono arrivati a fare vari progetti che ho avuto qualche un po di si può dire interessa nel mio lavoro ci sono dei momenti in cui pensi di aver paura di qualcosa nel proprio nel tuo nel tuo lavoro ma è paura non crea mai una cosa positiva non puoi vivere con la paura è una cosa che assolutamente nella vita non va bene perché la paura non crea cosa interessante era solo come si dice modi rigidi emotivi rigidi che non fa non si fa sperimentare con artisticamente con quello che vuoi puoi fare ci sono delle cose che rispetto ad altre ti mettono in difficoltà o hai un controllo perfetto totale su su tutto ma io direi tecnicamente non ho paura di niente non è questa è più in riguardo di rapporti fra fra persone sul set che diventa più difficile è tutto questo perché la cosa tecnologica si trova si trova qualsiasi soluzione non c'è una ripresa che non puoi fare non c'è una sequenza che non puoi fare non è impossibile non è niente impossibile si può dire ma proprio il rapporto ogni giorno fra le persone trovare il modo di di esprimersi il modo di stare insieme a creare un'atmosfera anche creativa queste sono cose che proprio devi ci deve lavorare magari ogni giorno a mantenere questo controllo più così più psicologo assolutamente e sempre di rispetto rispettare che ogni giorno quando giriamo qualche cosa le emozioni nostre non devono andare su quella pellicola quindi sul set sei una persona che si arrabbia o non ti arrabbi mai me mi arrabbio ogni tanto ma dico non è mai una cosa che voglio non mi voglio arrabbiare verso le persone perché è una cosa negativa e non va bene io provo a lavorare con tutti e trovare il motivo positivo il modo positivo di trattare le persone perché io credo che trattarli bene le persone con rispetto a il lavoro lavorare insieme avrai un progetto che è molto più importante molto più interessante perché non posso fare solo il film assolutamente ho bisogno di tutte queste persone che ogni giorno vengono portano le luci prendendo la camera le luci mettono a posto portano la camera portano gli obiettivi quindi questa atmosfera si deve si deve mantenere un specie di gioia di lei no un po di dobbiamo divertere un pochettino ci dobbiamo divertire e io lo vedo così ogni giorno provo a trovare un divertimento come un bambino si può dire questa è una di quelle qualità che che magari non si imparano a scuola si ma si imparano sul sul set si molta diplomazia la capacità di esprimersi senza mettere in crisi le persone se cercare di tirargli fuori il il meglio si nome proprio questo a vedere sempre in modo positivo e di creare qualche cosa insieme senti a livello di fotografico invece ci sono un po due grandi scuole chi lavora per addizione e chi lavora per sottrazione tu dove ti posizioni tra questi due schieramenti a 12 in riguardo di illuminare si sottrazione sottrazione più togliere luce togliere luce perché per me il il nero certe volte più importante del bianco quando trovo una cosa per esempio l'ombra è più importante del highlight come si dice del bianco proprio e quindi provo sempre questo bilancio di bianco e nero bianco e nero bianco e nero bianco e nero specialmente fuori e toglie la luce quindi capanni no in riguardo di sole assolutamente io voglio utilizzare il sole ogni modo possibile sempre contro luce trovare il modo di programmare tutta la giornata così ok per trovare un modo di utilizzarlo il sole non mi piace mai te lai specialmente il sole ok magari l'ombra i riflessi assolutamente nero ma il sole mi piace proprio utilizzarlo prima chiedevo a maurizio cremesini se tu se ti capita di utilizzare gli specchi e lui detto che ti capita spesso di utilizzare i riflessi a riflessi si conosce il crls crs è un sistema di di specchi abbastanza recente perché ti permette di rimbalzare la luce però potendola anche diffondere quindi tu punti un fascio e a seconda del livello di diffusione di questo specchio te la restituisce o netta o morbida o molto morbida finché non è ultra white e quindi puoi non lo so dopo te lo faccio vedere delle immagini cioè è un po un'innovazione tra virgolette nel senso che leonardo da vinci studiava gli specchi già più di nel 1500 adesso questa tecnologia degli specchi si è un po evoluta e la sta così trova delle applicazioni in campo cinematografico ma ti sembra devi dire interessante per me di solito il sul set se trova una cosa che rifletta la voglio utilizzare assolutamente è l'acqua è importante riflessi di acqua perché tengono un po vita come vedi il tuo mestiere da qui a cinque anni dieci anni con tutte con tutta questa ondata tecnologica che che tormenta questo settore come pensi che cambierà come si svilupperà beh dico assolutamente una cosa che per esempio invece di fare sul set vari lavori tagli di luce si può fare dopo assolutamente questo succede succederà ma il rapporto direttore di fotografia l'esperienza di quella che ho girato credo che sarebbe sempre utile a questo punto di vista magari a una certa età energia diversa magari non scappo come la prima faccio le cose più tranquille più più calmo seduto ma però credo che sarà sempre importante quello che che porterà un progetto che porta un progetto un direttore di fotografia con esperienza tu sei un cinematografe che sta in camera o no cioè ti piace stare in camera controllare oppure siccome infatti questo film l'ho fatto come anche operatore ma non l'ho fatto tanto tempo l'operatore perché di solito prendo due operatori posso concentrarmi ad altre cose per esempio per me è molto importante dove sono i mobili il colore per esempio varie cose che sono proprio fanno parte di quell'immagine che certe volte come operatori di macchina non vedi oppure devi fare dei provini con il macchinista con il carrello magari durante la ripresa sei molto sei molto concentrato a fare tutto quello mettere in mirino proprio giusto e perfetto e magari certe cose non rivedi invece stare indietro un pochettino e vedere sul monitor grande mi piace di più perché riesco a trovare altre cose non solo quello che vede la camera che eventualmente fanno parte della scena quindi parli molto con lo scenografo la scenografia cioè loro diventano parte integrante del progetto si anche durante ogni giorno ogni ripresa per esempio a spostare mobili a fare trovare situazioni che sono ideale per la fotografia non lo so mi sono trovato meglio avere un operatore macchina prima ti citavo junior lucano che operatore trinity a te è mai capitato di usarlo se ti vinte sul set come ti sei trovato era un operatore macchina che l'aveva comprata poco tempo quindi si voleva si doveva abituarsi un po perché completamente un'altra storia se era uno che era abituato con steady cam sarà comprato per la prima volta l'ha utilizzato su questo film no dark phoenix se i primi tempi ho aspettato un po perché non era molto reattivo no lui non sapeva proprio come fare perché è molto complicato perché devi piegare la camera quindi cibo un po se l'ho fatto mettere a posto detto no non abbiamo tempo il proprio di questi esperimenti per trovare il sistema di ma eventualmente verso la fine del film è riuscito proprio a utilizzarlo proprio benissimo e c'erano delle riprese proprio anche interessante che si si possono girare che non si potevano fare diversamente potevano fare diversamente assolutamente no questo è quello che è emerso dalla chiacchierata con con junior è proprio che c'è bisogno di tanto tanto allenamento e poi diventa magia quando lo sai usare bene si è il difficile qual è che è una tecnologia molto nuova e per essere utilizzata ha bisogno di c'è per essere studiata bene deve essere operata tanto solo che l'unico modo per operarla e nei film e utilizzarla no è vero e quindi è un po difficile la storia di junior proprio è successo che lui l'ha preso per lanciarsi nel mercato in un mercato nuovo più importante e poi ci sono state le condizioni che gli hanno permesso di fare prima delle scene più facili e poi man mano quando ha preso confidenza fare cose incredibili proprio anche con il segue i movimenti particolari è proprio una parte di sé è solo che ci ha voluto un po di tempo per per addomesticarla insomma no sì sì come la tecnologia e lo vedo come una cosa che è interessante ma non sono proprio tipo le chiamano tech geeks statunite che vuol dire uno che è proprio deve trovare la nuova tecnologia per utilizzarla io lo vedo come deve trovare un modo di questa tecnologia se effettivamente è un linguaggio che sia interessante la vedo così a vari progetti non vedo che la voglio utilizzare quello crane chissà come ma se c'è una ripresa che dobbiamo fare con questo crane va bene ma non sono proprio i tech geek si può dire si dice nei stati uniti che uno che è proprio la tecnologia la cercano deve avere la tecnologia devo utilizzarla siamo verso la fine perché è durata fin troppo e sono io so che finalmente diventerà i socio di haici si dopo dopo tanto tempo sei riuscito a chiudere le pratiche si come viene vista haici dalla dall'america che c'è la sc ma per me è più una cosa che sono italiano ho un orgoglio di essere fare parte di questa associazione che è molto importante per me personalmente il riguardo degli stati uniti non è una cosa che ci ha pensato assolutamente il cinema italiano sempre rispettato tutto il mondo anche gli stati uniti anche i direttori di fotografie italiane sono molto rispettati da vittorio storaro dante spinotti e luciano tovoli chissà tutti sono rispettati negli stati uniti proprio questo è il massimo riguardo della lista di direttori di fotografia gli italiani sono proprio all'alta lista proprio rispettati quindi io lo vedo come un orgoglio fare parte di questa associazione proprio per questo è anche un orgoglio di essere italiano come sono sono contento che l'intervista l'abbiamo fatta in italiano perché se in inglese avrei fatto l'avrei capita dopo quando quando la faccio tradurre mi hai trovato proprio che ho fatto un mese qui mi trovo meglio c'erano i primi tempi forse le prime settimane prime due settimane aveva un po di problemi caspita invece cioè perfetto parli perfettamente comunque l'intervista la farò tradurre in inglese con i sottotitoli in inglese sì perché contenuti cioè un'intervista molto lunga approfondita sul tuo pensiero la tua poetica più difficile da trovare e così questa qui rimane mauro grazie infinite sui per piacere grazie